live eccoci qua maurizio grandissimo sono contento troppo contento di vederti come stai molto bene sono contento anch'io ci siamo incontrati forse un anno fa circa e allora infatti noi ci siamo visti e ci siamo anche conosciuti di persone che ho assistito nella tua clinic tempo prima ma c'è questo video della nostra intervista al conservatorio di milano che io consiglio di vedere per chi magari non ti conoscesse lì abbiamo parlato della tua storia di quello che hai fatto della tua carriera l'intervista molto molto bella e anche molto intensa per le cose personali che ha raccontato e oggi io ne voglio approfittare in questo formato chiedilo a ma sono il primo che ti vuole fare le domande perché come ho detto tante volte come tu sai io sono un seguace della tua didattica che la so per me e per i miei allievi quindi oggi ciò qua tutti i libri ti voglio fare un po di domande su queste su queste su questi lavori che hai fatto sei d'accordo assolutamente sì grazie molto volentieri allora siamo già tantissimi siamo già tantissimi maurizio 6 mi hanno scritto in tanti o maurizio ma non ho mandato le email c'è molto entusiasmo io voglio dire una cosa prima di cominciare e ti voglio veramente ringraziare da parte mia ma anche un po della comunità dei batteristi perché se chi ti segue su instagram sa di cosa sto parlando perché credo che tu sia l'ho anche scritto pubblicamente in un post credo che tu sia uno dei pochissimi batteristi soprattutto di una certa generazione qui in italia ma non solo devo dire che trasmette veramente un valore enorme con i post che fai su instagram perché chi chi va a vedere i tuoi post potrà vedere che magari metti o una foto o un video una performance o qualcosa che non è qualcosa finalizzato a far vedere che sai suonare che sei bravo che hai fatto le cose che hai girato il mondo eccetera eccetera ma a trasmettere la tua esperienza personale che un po quello che scrivi anche dentro ai tuoi libri no le parti testuali sono molto belle io ti ringrazio molto perché quello che tu condividi è una lezione sempre per tutti io credo quindi seguite maurizio su instagram ragazzi perché è un profilo favoloso allora maurizio cominciamo dopo tutti questi complimenti che ti ho fatto allora diciamo un po io oggi volevo chiederti dei consigli su come studiare sui tuoi libri per esempio da quale vogliamo partire time rudiments che è il mio preferito di tutti quelli che hai fatto posso dirlo sì time e groove che è un altro libro molto bello adesso tra un po uscirà anche finalmente qualcos'altro di nuovo qualcosa di nuovo se si 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 chiamano che non si può il cantiere già da diverso tempo e te lo stai neanche preso in giro per questo però perché sono passati un po di anni mi ricordo che a quella famosa cliniche dove tv di almeno 6 7 anni fa già dicevi comunque ragazzi adesso farò un libro con la versione la latina di questa roba qua bomba apro subito una parentesi merito a questa cosa il libro è pronto la verità adesso che avendo appunto lavorato per tanto tempo è venuto fuori talmente tanto materiale che non sono riuscito ad inserirlo in un unico volume se non sarebbe venuta un'enciclopedia qualcosa si mattone che sarebbe stato pesantissimo quindi sto dividendo questo unico volume in due volumi con due livelli differenti senso che ci saranno comunque gli stessi argomenti del territorio africano cubano e brasiliano però divisi per livelli per cui livello 1 livello 2 perché nello stesso libro sarebbe stato un po pesante quindi il lavoro che la sarebbe scusami se ti interrompo sarebbe la parte 2 di questo libro di time groove ok mi dici in brevis che cos'è questo sistema di studio time group perché molti molti dei tuoi libri hanno dentro la parola time ok che è un argomento mi sembra che ti stia parecchio a cuore mi dici di che cosa parla questo libro e eventualmente come il concetto anche del prossimo visto che si si sta parlando se tu mi consenti io vorrei fare una piccola premessa che probabilmente potrebbe essere qualcosa che chi chi magari non ha mai avuto modo o non mi conosce insomma può in qualche modo capire diciamo cosa c'è dietro ognuno dei miei libri perché a partire dal primo all'ultimo c'è comunque un comune denominatore io in realtà in tutti i libri ho voluto evidenziare un concetto no nella fase di studio di uno strumento e la cosa molto più importante è riuscire a pensare bene a ciò che stiamo facendo non è importante non sbagliare noi possiamo anche sbagliare mentre stiamo studiando ma dobbiamo pensare bene perché se pensiamo bene magari in un secondo momento potremmo anche imparare a suonare bene ma se nella fase di studio non pensiamo nel modo corretto e non avremo la possibilità di migliorare niente di quello che facciamo per cui diciamo il concetto di base e trovare la chiave per potersi osservare meglio capire che cosa stiamo sbagliando e nonostante l'errore trovare una chiave per cercare di evitarlo questo ci potrà permettere in un secondo momento di migliorare il modo di suonare perché se noi crediamo soltanto aggiungendo materiale di cambiare qualcosa di determinante probabilmente partiamo col più sbagliato poi tu sai meglio di me che in questo momento abbiamo davvero tantissimi libri no fortunatamente rispetto al passato c'è un grande cambiamento l'abbiamo già detto l'altra volta forse prima avevamo poche cose adesso forse ce ne abbiamo anche troppe e il vero problema sostanzialmente secondo me che oggi probabilmente ci mette in difficoltà è il fatto che abbiamo tantissimo materiale tante cose a disposizione per poter magari che ne so a te piace mark giuliana dici io mi prendo il libro di mark giuliana vedo tutti i suoi concetti imparo tutte le cose che lui ha studiato mi piace vinico l'aiuta prendo tutti i libri di galicefi certo non diventerò come loro però so il percorso didattico che hanno fatto ma dal mio punto di vista e questo in realtà è quello che io vorrei vorrei ottenere attraverso i miei libri la cosa più importante che ci riguarda noi tutti ho preso me perché io sono il primo studente dei miei libri c'è risultato più degli altri la cosa più importante è farci una domanda io a che punto mi trovo nel senso che oggi abbiamo davvero tantissime cose ma non abbiamo la capacità di capire se quel quella cosa siamo pronti e che cosa ci manca prima di fare quella cosa lì e quindi questo aspetto è un aspetto molto importante che che praticamente ho cercato in qualche maniera di esprimere nei libri dando la possibilità ai ragazzi ovviamente con l'aiuto di maestro ancora meglio di capire quali sono i propri limiti e fare vari steps per raggiungere determinati risultati ora io stavo facendo questo discorso se parlo troppo ferma no no ma stai scherzando io sono qua che ti ascolto il silenzio proprio volevo dire appunto questa cosa qualche giorno fa parlavo con un mio carissimo amico mio studente perché oltre ai miei studenti sono tutti i miei amici che forse conosce perché delle due parti si chiama Diego Lancelotti un bravissimo batterista uno studente che non so se mi sta sentendo saluto magari gli dicevo questa cosa e lui mi dice si hai ragione maestro ma in questo c'è il maestro che ti aiuta no a dirti a che punto ti trovi e io gli ho detto Diego hai ragione anche tu la verità però è che noi maestri non siamo tutti uguali perché ci sono varie tipologie di maestro no ci sono alcuni che ti dicono ok tu sei bravo però per me devi ripartire da capo rudiments a manetta devi usare questo movimento qui non quell'altro devi mettere il pietro così devi usare for way coordination questo questo libro su tutte le cose che magari si studia da lui un altro maestro ti potrà dire no tu sei talmente bravo che puoi fare già del black page di friends up per una settimana portami del black page quando magari a lui li si vede per 10 anni poi magari invece c'è qualcun altro che dice ok siccome tu ti vuoi divertire prendi il pezzo di maroon 5 e suonaci su c'hanno ragione tutti non è che c'è qualcuno che ci ha torto perché se uno ottiene un risultato da quell'allievo perché magari sta che quell'allievo ha bisogno di quello c'ha ragione per cui non posso dire che un insegnante giusto un insegnante sbagliato quello che secondo me conta però è che l'allievo deve avere la percezione che il suo insegnante sia onesto con lui e come lo fa ad avere deve avere anche la la capacità lui stesso deve averci la capacità di poter riconoscere le sue difficoltà perché va bene la stima io lo dico a tutti i miei allievi tu poi potrai chiederlo va bene la stima va bene la fiducia ma se io ti chiedo una cosa sperimenta dopo magari mi puoi anche dar torto con quanti ho discusso sull'interno al clock che magari un esercizio sul quale io ho insistito moltissimo perché mi sono reso conto negli anni che poteva essere realmente utile qualcuno magari non mi ha dato fiducia io ho detto ragazzi poi provate state lì un mese tutti i giorni senza aspettarvi nulla poi vi accorgerete che qualcosa comincia a cambiare anche senza cambiare nulla di quello che avete già fatto quindi diciamo sostanzialmente se vogliamo dirla tutta nei libri in tutti i miei libri ho cercato di mettere dentro questo elemento che si riferisce al fatto che ognuno in qualche modo ha degli strumenti per riconoscere i propri errori per capire a che punto si trova ecco mi sforzo di far questo in tutti i libri dal primo all'ultimo infatti mi sembra non mi ricordo in quale dei tuoi libri però ce n'è uno dove introduci proprio il discorso dell'attenzione che è la cosa che fa la differenza tra il musicista professionista e il musicista appassionato amatore l'attenzione intesa adesso non per decontestualizzare cioè il processo che ti permette di arrivare a suonare con un certo focus determinate cose ma che è il frutto di tutta una serie di esercizi mi sembra che sia time and function al coordination ecco questo libro adesso questo questo è un libro un po particolare che probabilmente non è così semplice è l'unico che non ho finito dai tuoi è l'unico sono arenato a un terzo però l'ho fatto tutto come dicevi e ho detto cavolo quasi ci devo stare tre anni guarda se ti posso dire la verità in realtà volendo essere onesti è molto difficile così lo possiamo sfogliare un libro ma finirlo io per prima che lo scritti so quello che deve studiare più dei miei allievi perché c'ho meno tempo e e quello è uno di questi insomma di quei lavori in cui c'è non solo la necessità di studiare le varie cose ma di metterle sempre più a fuoco così come parleremo dopo in realtà in quel libro in particolare io mi sono occupato di un aspetto un po differente no io come ho scritto nel libro qualche tempo fa ero sempre alla ricerca di qualcosa come tutti quanti noi o un video nuovo un libro nuovo che mi desse qualche input nuovo e avevo sentivo sempre il disagio insomma che abbiamo tutti no la coordinazione il timing contro il controllo del suono e allora ad un certo punto insomma siccome io sono una persona molto curiosa mi sono imbattuto in una qualità che sviluppano gli sportivi che si chiama anticipazione motoria non so se ne abbiamo mai parlato insieme o se sai che cosa ti riferisce no 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 so che ne parli nel libro ti voglio spiegare bene e questo poi è stato diciamo il là che mi ha permesso poi di pensare tutte le altre cose in realtà qualsiasi cosa noi facciamo nasce ovviamente da una programmazione mentale no adesso facciamo diciamo l'esempio sportivo se io sto facendo una partita di calcio il mio compagno sta tirando un cross dal calcio d'angolo io senza nemmeno accorgermi ne faccio una serie di calcoli che vengono nella mia testa dei processi biochimici diciamo che mi guidano no mi dicono ok morizio devi correre un po non troppo se no se arrivi troppo presto qui ti devi fermare qui devi saltare qui devi colpire diciamo il campione riesce a fare questo calcolo in maniera qualitativa e arriva al momento giusto per colpire la palla e magari farà anche quello che non è un campione probabilmente questi calcoli fa in modo sbagliato quindi arriva prima salta mani ora io mi sono accorto che qualsiasi cosa noi facciamo su uno strumento che sia un piccolo cambiamento cioè se io sto suonando tu ciao ciao ti devo solo mettere due sedicesimi in più se quei due sedicesimi in più non stanno nella mia testa quell'attimo prima che io li faccia in modo da poter risuonare con determinazione facendo la proporzione con gli ottavi che stavo lasciando ecco se questa piccola variazione sfugge alla mia attenzione proprio perché è una piccolissima variazione questo può essere motivo di sbilanciamento del flusso eccetera eccetera quindi relazione a questo ho lavorato su questo concetto dell'anticipazione motoria scrivendo praticamente delle sequenze ritmiche come sono su quello su quel libro lì da fare a memoria e ci sta quindi quella figurazione di due quarti tre quattro quarti che che va suonata di seguito in sequenza perché in realtà in quell'unico esercizio ci sono poi praticamente diverse qualità che tu sviluppi contemporaneamente non ultima l'attenzione perché come stavi appunto dicendo tu cosa a cui ho fatto molto caso in passato per per i musicisti diciamo l'aspetto che principalmente crea differenze tra i professionisti e non professionisti è proprio la capacità di stare attenti no allora ovviamente noi non possiamo aspettare di stare in uno studio di registrazione per sviluppare qualità dobbiamo provare ad esercitarci a casa in quella direzione ecco questo genere di lavoro può darci la possibilità di capire fino a che punto noi siamo in grado o no non solo di gestire l'aspetto tecnico ritmico ma anche la nostra capacità d'attenzione dall'inizio alla fine di un esercizio e quindi ci sono tutta una serie di sequenze per migliorare questa qualità accanto poi ci sono i vari tools che servono praticamente per allineare vari colpi all'unisono o i colpi che sono in conseguenziali insomma il libro è abbastanza diciamo non difficile ma da far bene probabilmente impegnativo perché ci sono varie cose molta molta concentrazione poi ci sono le cose contemporanea tutte le tutte le varianti e sembra quasi che hai messo insieme un po i concetti di altre cose che hai fatto a volte concetti dello stesso libro magari di te rudiments si messi insieme quindi il livello magari diventa un più avanzato se vogliamo però c'è con un libro così puoi studiare una vita ma a proposito di questo argomento qua tu hai fatto dei libri diversi tra loro uno riguarda solfeggio la lettura l'altro riguarda i time rudiments è vario perché tocca vari 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 argomenti io purtroppo non sono tuo allievo ma immagino che tu darai diverse possibili varianti di studi anzi invito magari qualcuno visto che tanti stanno scrivendo che stanno che usano i tuoi metodi che ce li hanno se ti va di condividere anche qualche variante creativa interessante per esempio tu hai citato l'internal clock no internal clock scusate se mi chino ma li ho appoggiati qua è proprio il primo esercizio del time rudiments no quindi lo faccio vedere speriamo che non sarà bimarco volontè che lo facciamo vedere così va a parte scherzi quindi è un esercizio che io ho visto che tu hai anche messo online l'hai fatto in vari modi con le mani con i piedi a velocità pazzesche e poi tante cose si basano su questo concetto come gli esercizi appena successivi dove poi vai a orchestrare sul kit ci sono delle varianti magari interessanti che puoi condividere su questi tipi di studi o consigli proprio di cercarcele noi voglio dire come approcci con un tuo allievo come glielo approcci lo studio dei tuoi libri intanto intanto grazie per avermi dato l'opportunità di parlare di alcune cose che tengo molto che sono molto importanti per il mio insomma metodo di lavoro con i ragazzi perché tutti i ragazzi a prescindere dal livello e secondo il mio punto di vista insomma partono tutti lavorando sull'internal clock perché in realtà è quello che ho appena detto no se io riesco a pensare bene anche se sto sbagliando in un secondo momento potrò suonare bene ma se io penso male sono sicuro che poi non parlerò mai a suonare quindi diciamo l'internal clock è il nostro modo di pensare per cui se se non è chiaro dentro di noi qual è la scansione dei sedicesimi è molto difficile che attraverso un esercizio di tecnica che viene immediatamente dopo io possa tirar fuori quello che 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 insomma ho in modo in intenzione di fare e non so se l'altra volta ne vamo parlare però parlato però in merito a questo perché forse tutto lo ricorderà io poi magari parlo di questo con gli allievi ma non mi ricordo se nella nostra intervista parlano di questo ti ho accennato mai al discorso che magari adesso se ci sente qualcuno dagli stati uniti si incazzerà pure però io dico la mia ognuno di counting e counting ne avevamo parlato ecco ora il campo infatti ogni volta che apro un ubrido ti penso allora però ti voglio spiegare una differenza no 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 scherzo 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 ma io guarda ciò fa me la ricordo benissimo quella cosa che tu sostanzialmente dicevi che il counting vocale potrebbe addirittura crearti un ulteriore problema perché un elemento in più di coordinazione che devi gestire dico male questa cosa giustissimo a proposito del new breed mi dà l'opportunità di dire una cosa se io sto parliamo insieme discutiamo magari poi dopo tu mi puoi dare anche torta facciamo conto che stiamo un tavolo dubito allora diciamo questo io sto studiando new breed mi metto in ginocchio ovviamente anche di cester per essere stato essere stato uno dei più grandi innovatori e maestri di tutti i battalisti in quel metodo lui ci consiglia di cantare le varie voci quindi di concentrarci su ognuna di quelle voci perché lasciando più attenzione canalizzando l'attenzione su quella voce è più facile che noi riusciamo a metterla a fuoco no è come quando noi in realtà io dico sempre ai ragazzi tu stai suonando un andamento però del tuo andamento c'è sempre qualche voce che da sola rende l'idea di quello che tu devi fare no è come quando tu che ne so tu stai guidando la macchina e stai facendo tante altre cose schiacci la frizione cambi le marce parli con qualcuno qualcuno telefona anche però il tuo focus è la strada se tu non guardi la strada vai a sbattere ecco anche quando suoniamo c'è un focus il focus e la pulsazione noi non possiamo per un attimo abbandonare la pulsazione possiamo dimenticarci del rullante possiamo dimenticarci della cassa ma non possiamo dimenticarci della relazione con la pulsazione del battere ora in merito al discorso del canti one in the two in the three in the four se io canto male questa suddivisione sono sempre io a cantarla sicuramente dico male alle mani quando si devono muovere cioè non c'è un'altra persona che mi sta accanto e conta al posto mio no se punti al posto mio io faccio come quando ascolti il metronomo lui porta il tempo io lo seguo in realtà è un po la stessa cosa allora se io un conto è concentrarmi sulla voce che serve a farmi capire dove sta ma se io penso i ragioni di timing cantare one in the two in the three stay nella mia testa non è corretto non mi aiuta dal mio punto di vista poi magari mi sbaglio capito non lo trovo non lo trovo se ho capito sì forse volevi chiedere qualcosa vedo che mi stavi stai riguardando no 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 io sto guardando perché ci sono il cerco delle domande che magari sono già vorrei tenere la seconda parte per le domande però chiaramente se ne trovo qualcuna che è inerente al discorso che stai facendo magari te la va te la vado a fare subito no è chiaro che non volevo non volevo mettere in discussione il bride ci mancherebbe ma nemmeno io vedevo per carità perché poi dopo ci guardiamo bene da dire io sono contrario ad alcuni insegnanti alcuni insomma che impongono questo counting alle allievi che dicendo che attraverso quello possono migliorare il flusso in realtà non è così perché il flusso è un atteggiamento mentale uno stato mentale e lo step successivo che diventa fisico ecco perché il lavoro di time and fashion coordination e praticamente quello che succede dopo quello che sta nella nostra testa in realtà quello diciamo il lavoro di quel libro lì è qualcosa che mette a fuoco i movimenti in modo che siano contemporanei a quello che tu stai pensando cioè se io suono un andamento binario e poi quello stesso andamento deve diventare ternario c'è una piccolissima differenza tra due sedicesimi binari e due sedicesimi ternari quella piccolissima differenza prima deve essere chiara nella mia testa quindi un buon internet clock e successivamente devo avere una buona reattività che mi dica devi muovere adesso il piede né prima né dopo ecco questi meccanismi diciamo non sono musicali anche perché come ti ho detto l'altra volta io non ho la pretesa di insegnare a suonare la batteria se non l'avrei imparato io a suonarla per cui non la posso insegnare ma posso spiegare quali sono i meccanismi che possono ostacolarci capito perché poi ognuno è un artista a modo suo ognuno suona quello che gli pare ognuno sceglie il suo batterista preferito ognuno sceglie la sua strada che guai a diciamo a impedire di perseguirla però ci sono dei meccanismi che delle volte ti possono ostacolare insomma io a me piace insomma andare a spulciare in quell'area lì insomma dimmi guarda il fatto che tu posti tu pubblichi spesso su instagram dei video dove magari sono dei workout dei tuoi stessi libri o magari quelli in preparazione che stai facendo come dire tu ti eserciti su quello te lo chiedo perché molti stanno chiedendo le tue routine di studio cosa studi cosa fai adesso siamo tutti un po più liberi di esercitarci anche se tu stai comunque portando avanti i programmi didattici con gli allievi però quello è anche il lavoro che tu fai normale perché non saresti il primo no ad esempio anche cristiano michalizzi mi ha detto io ho fatto questi libri perché li uso per studiare li ho tradotti in libri e li uso coi miei allievi ma lui tuttora li usa per fare il suo workout quotidiano quindi diciamo adatta quello che ha scritto per se stesso per il suo studio è così anche per te ma guarda io devo essere molto sincero vuoi un po perché ho meno tempo per studiare rispetto a prima a prescindere da questo momento particolare di lockdown che comunque non ho studiato nello stesso perché con la destra sono andato un po fuori come tanti di noi insomma e però ci sono alcuni esercizi che io faccio quotidianamente ma ma giusto per vedere se sono sveglio o se mi sto addormentando nel senso che quello che mi interessa e tenere sveglia la attività poi le idee adesso tu vedi io mi sforzo di scrivere sempre qualcosina infatti nei miei allievi te lo potranno confermare ad ogni elezione che facciamo io chiedo ad ognuno di loro di scrivere qualcosa non solo di soddisfare i paradidoli di scrivere un piccolo riff di basso una melodia due accordi per cominciare a pensare più musicalmente proprio perché ritengo che oggi non è più il momento di fare il batterista che si studia i rudimenti e basta oggi il batterista fa un sacco di altre cose ed è riduttivo pensare che tutto si risolva in esercizi per cui quello che faccio più spesso adesso e mi piace proprio scusa che chiudo un attimo il telefono mi sono dimenticato di staccarlo quindi tranquillo ecco la dicevo non ci sei più ci sono ci siamo ci siamo maurizio ci siamo ci siamo non mi vedo più che ho fatto no no non lo so chiama tuo figlio io ti vedo tu vai pure avanti che ti vedo anche se tu non vedi me io ti vedo e ti sento vai tranquillo vai tranquillo nel frattempo maurizio dico una cosa tutti quelli che sono su facebook in questo momento nel gruppo facebook suonare la batteria allora ragazzi se io metto un commento di un utente del gruppo facebook a caso lo vediamo così se vuoi fare in modo che si veda la foto e che si veda anche il nome caro utente del gruppo facebook clicca sul link che ho messo vicino al video con maurizio perché in questo modo vediamo anche la tua foto insomma ecco stavo andando a cerca ecco la domanda di luca che tocca proprio l'argomento che tu stavi dicendo prima cioè maestro cosa vuol dire fare il musicista oggi sei tornato maurizio ma purtroppo non riesco a tornare non mi vedi ma mi senti però mi senti allora vai anche se non mi vedi non preoccuparti a capire che cosa manetta smanetta pure comunque un parte parti se no se vuoi ti faccio uscire rientrare come preferisci se è successo che magari la telefonata ha destabilizzato qualcosa del computer perché adesso quello che quello che ti ha chiamato dopo lo richiami comunque a prescindere la città ti deve offrire una cena dato tutti mi intanto tu dimmi cosa mi stavi dicendo no luca chiede una domanda che è quello di cui stavi parlando cioè cosa vuol dire fare il musicista oggi per cui tu dici no oggi stare in casa a studiare rudimenti e basta non è più necessariamente la strada da seguire ma guarda non vorrei nemmeno essere categorico perché ho sempre diciamo visto male le persone che che hanno detto si fa così e non si fa così quindi sarei un cretino adesso a dire esattamente il contrario nel senso che che non c'è nulla che che completamente sbagliato o completamente giusto per cui diciamo che se uno sta a casa a fare i rudimenti nel periodo in cui li deve fare ok nel senso che se io sto iniziando a studiare la batteria e ho bisogno di cominciare a muovere le mani ovviamente devo passare attraverso i rudimenti e se spendo una giornata sui rudimenti non è tempo perso poi magari se però ne spendo 10 senza nemmeno suonare una canzone allora mi devo fare delle domande ecco questo è il discorso per cui dicevo non è sbagliato studiare soltanto una cosa però bisogna vedere in che punto ti trovi ti ricordi io appena detto è importante capire a che punto mi trovo dello studio per poter poter fare dei progressi no io ti posso fare un esempio se io adesso sono a roma se devo andare a milano il mio navigatore mi dirà morizio dove stai prima di dirti che strada devi fare mi devi dire dove stai se no io come faccio a portarti a milano ecco per noi è molto importante sapere a che punto mi trovo se io sono sul punto che ho già avuto qualcosa dai rudimenti bisogna che mi muovo da un'altra parte se io invece dai rudimenti vado a suonare i tempi i pezzi di frank zappa da lì ho fatto troppo ci sono anche molte domande su routine di studio cose di questo tipo però c'è una domanda di isaac san pietro che chiede se dovessi creare una routine con i tuoi metodi sarebbe top fare prima time rudiments e dopo time groove c'è una sequenza che tu utilizzi oppure li mischi in base alle pagine agli argomenti guarda in realtà si è una bella domanda guarda l'unica cosa che io posso dire a questo amico che poi quello che dico a tutti i miei studenti in realtà è l'unico esercizio che è l'inizio di un processo è questo lavoro dell'interno no perché dal mio punto di vista è quello che dicevo prima nel senso che io se non imparo a pensare bene poi non posso suonare bene e allora diciamo che l'internal clock è la base di ogni altro argomento che c'è dopo una volta che quell'esercizio viene bene ma bene intendo dire che io ne sono pienamente consapevole che quindi sono riuscito anche a diciamo a sperimentare velocità successive fino 150 160 180 quindi avere una grande reattività perché tutto è interconnesso all'internal clock ti voglio fare un esempio io adesso mi riallaccio a un altro libro nel mio libro di letture si si chiama reading timing in your training ecco quel libro lì come tu hai visto penso che tu l'abbia visto c'ha una particolarità in realtà è un libro di lettura come tutti gli altri però c'ha comunque qualche elemento in più che riguarda proprio l'aspetto del timing e l'ascolto mi spiego meglio mentre io sto leggendo una lettura non sto soltanto leggendo una serie di simboli che comunque in poche lezioni di solfeggio imparo a leggere ma sto comunque mi sto anche occupando di portare il tempo mi sto occupando di ascoltare gli altri che suonano in relazione a me per e poi oltretutto sto imparando attraverso quel libro a lavorare sulle velocità metronomiche che sono una una cosa che spesse volte trascuriamo quando facciamo la lettura perché noi siamo abituati a in qualche modo non è il mio caso però molti di nuovi a fare la guerra tecnico col metronomo a salire su con gli esercizi però poi in realtà sulla lettura magari non ci pensiamo che una lettura a 40 di bpm c'è una difficoltà e a 180 ce n'è completamente un'altra vi voglio raccontare un episodio visto che che insomma che ci troviamo l'argomento velocità metronomiche ma una cosa che è un po ci farà un po sorridere ma è giusto per dirvi che comunque le cose che scrivo nei libri comunque alla fine hanno hanno un fondamento nel lavoro qualche giorno fa abbiamo fatto una trasmissione che andava in onda per natale e avevamo da suonare tra le altre parti un pezzo con tosca che è una cantante che molti di voi conosceranno tosca porta questo pezzo in realtà molto semplice perché c'erano soltanto ottavi c'erano dei cambi di tempo c'erano due quarti tre quarti cinque qualche battuto così ma la balla l'inchiostro era poco c'erano poche cose da leggere l'unico problema è che era a 180 di metronomo forse qualcosa in più sono mi ricordo bene per cui quando siamo partiti a suonare è successo nella prima prova è successo un gran casino nonostante tutti i musicisti fossero tutti i bravi musicisti però diciamo la velocità di quel brano li ha messo in difficoltà l'orchestra quindi non la velocità di lettura non il fatto che stessimo leggendo una parte difficile ma che la stessimo leggendo a più di 180 di bpm che creava il problema ecco perché quel libro lì di lettura io l'ho pensato in questo modo ci sono già tanti libri in cui uno studia diciamo il solfeggio ritmico studia tante figurazioni più o meno complicate ci sono anche tanti insegnanti che dicono ok tu puoi studiare la lettura insieme ad una base audio per cui ti eserciti a suonare che ne so un samba mentre stai leggendo dei sedicesimi con quella pronuncia lì però il vero problema che mentre fai questo non ti stai preoccupando di assumerti la responsabilità di condurre perché comunque chi conduce è il batterista che sono su quel disco oppure il click sul quale stai suonando nel libro che io ho pensato di lettura ci sono delle tracce audio che tu conoscerai che avrei visto che si chiamano time keeping tracks che servono proprio ad abituarti ad avere dei momenti in cui sei tu ad assumerti la responsabilità di suonare correttamente in quegli spazi in cui non hai riferimenti e al tempo stesso sviluppare anche la capacità di ascoltare quel riferimento nel momento in cui arriva e cercare di creare una una risultante ritmica precisa con quel riferimento ovvero se sei perfettamente sul secondo batterio se sui 1 2 3 4 alcuni colpi ti capitano proprio lì tu ci devi stare proprio lì se sei prima di portare lì deve venire fuori comunque una risultante ritmica cosa che mentre stiamo suonando una parte con gli altri accadono ogni secondo della lettura però probabilmente chi non ha avuto occasione spesso diciamo di trovarsi in situazioni in cui doveva leggere una partitura questo genere di difficoltà non non se la pone nemmeno c'è questo problema nemmeno infatti voglio sottolineare che ci sono un botto di tracce audio nel legate al libro che parte che un libro lo sto facendo vedere tu non sei ancora tornato a vedermi che sta tornando il rito c'è se c'è destra che poi viene si vabbè comunque ti leggo i commenti non c'è problema però per esempio 6 le sto guardando degli studi parti da 40 fino a 200 c'erano con i 5 ottavi parti a 90 arrivi a 2 90 e tutte le tracce divise generalmente sono 10 bpm alla volta non mi pare quindi hai queste basi per far capire a chi non conoscesse il libro che non è solamente la base dove non è che la base dove tu hai il suono del tamburo e vai a suonare insieme ma anzi hai una parte musicale che ha degli appuntamenti come dici tu nei tuoi libri che ha degli appuntamenti dove tu ti devi ritrovare insieme quindi è un livello superiore di non dico di difficoltà a un livello di studio diverso rispetto al solfeggio ritmico tradizionale quindi sei obbligato in un certo senso avere questo timing questo questo tempo costante altrimenti non porti a casa neanche la lettura neanche se semplice questo per dire diciamo appunto che proprio il lavoro è questo qui di mettere in luce il problema che alcune partiture benché semplici hanno delle trappole appunto vi ho appena raccontato questa cosa un po per scherzare non me ne voglio ad osca tanto poi alla fine il pezzo l'abbiamo eseguito però dicevo ci sono delle trappole perché vediamo la partitura un po con chiostro diciamo che questa non la guardo nemmeno guardiamo quella dopo ma se quella partitura è a 40 di ppm o a 250 ti assicuro che cambia tantissimo però per cui se noi a casa non si non ci esercitiamo a questo gene a questa eventuale difficoltà quella difficoltà la potremmo trovare insieme agli altri e chiaramente non è che facciamo un errore non facciamo una battuta giusta perché può capitare di sbagliare un sedicesimo su un'ottavo o mettere una pausa al posto di un'altra e comunque stare nel beat ma se tu fai fatica proprio a pensare il beat a 40 o a 180 tu non fai un errore non fai una battuta giusta perché sei sempre fuori dal contesto in cui ti stai trovando quindi diciamo questo libro insieme agli altri rientra in un'abitudine a stare attenti a determinati aspetti no cioè uno di quelli appunto di cui parlavamo prima è il fatto di stare attenti alla pulsazione e ascoltare i segnali che vengono dall'esterno perché la vera difficoltà è proprio quella di diciamo di riuscire a sentire se stessi e se stessi in relazione agli altri questo accade sia che stiamo facendo un esercizio che stiamo facendo un lavoro sul group magari di time and group parleremo adesso ma anche se stiamo leggendo una lettura perché fondamentalmente noi siamo abituati a dire ok adesso abbiamo imparato le crome le semicrome adesso impariamo le bischrome poi andiamo avanti con gruppi regolari e abbiamo capito tutta la lettura ma in realtà se tu ti sei letto tutto un libro che fosse il miglior libro di letture e torni indietro e le stesse letture le suoni a 40 non è non è detto che tu non debba ricominciare da capo è quello che succede con gli allievi io una lettura a 40 non la faccio studiare a un ragazzo del primo anno la faccio studiare al ragazzo del bienio in conservatorio così come il moto modi differenti di cui parlerò di studiare time and group non lo faccio fare ai ragazzi del primo anno lo faccio fare i ragazzi che sono un po più avanti perché alcune difficoltà non sono quelle scritte sul sull'esercizio ma sono legata ad altri aspetti di cui magari poi parleremo parliamo ne parliamo tra l'altro ti leggo questa che dice pier luigi ti chiede dice che ha studiato tra anni con un insegnante in maniera costante ora studia da solo e ha comprato i tuoi libri time and groove time and rudiments dice è possibile studiarli da soli beh io posso dire la mia posso dire la mia time and groove è un libro secondo me molto accessibile no anche time rudiments però time and groove visto che ne stavi parlando sono curioso di sapere vabbè scusa ho rubato la risposta ci mancherebbe quindi dice può sono entusiasta del parlare di raccontarti come io studio faccio studiare i tuoi libri ascolta cosa gli dice a pier luigi può studiare da solo ma guarda sicuramente per luigi la guida di un insegnante di coscienza ti può essere d'aiuto sicuro no anche perché voglio dire anch'io qualche volta suono qualcosa chiede a miei miei allievi come ti come ti sembra perché il parere di un altro conta sempre no per cui insomma avere una seconda la persona seconda persona con un altro orecchio ti può dare sempre dei consigli e diciamo che time time and groove è uno di quei libri appunto come dicevo all'inizio che ti dà la possibilità anche di di sentirlo da solo se non ci sei se tu se tu senti che non sei sul riferimento e non c'è bisogno che te lo dice il maestro lo senti da solo certo il maestro magari se è una persona che ha sviluppato un buon senso ritmico può accorgersi di alcune sfumature dirti hai sbagliato quel corpo lì ma in realtà tu non hai sbagliato lì hai sbagliato due quarti prima quando ti sei dimenticato del charleston e quindi hai perso il flusso e ti sei ha incominciato a stabilizzarti per cui diciamo studiarlo con con una persona che abbia comunque delle conoscenze in in quell'ambito lì può aiutare però è sicuramente un libro che ognuno può studiare per conto suo ed avere comunque dei buoni risultati il sanzito tu consigli la registrazione però ti sto anticipando ecco assolutamente il 99 per cento del lavoro di quel libro è dato dalla possibilità di di potersi registrare perché io fra l'altro l'ho già scritto nel libro ma ho avuto un ulteriore conferma in questo periodo di lockdown no perché come tu ben sai è difficile avere comunque una una video chiamata senza latenza per cui magari quello suona e non si sa mai se è colpa della della latenza oppure lui che non sta suonando bene per cui i ragazzi registrano tutti i workout e anche loro stessi si stanno rendendo conto di alcune cose che in classe facendo lezione non venivano fuori o perlomeno non erano così palesi magari loro si fidavano di me che io dicevo ok guarda qui non va ancora bene rifacciamolo però un conto è fidarti di me che uno può fare anche fino a un certo punto da lui anche vuol dire Maurizio fatti i cazzi tuoi per me è giusto e un conto invece avere la registrazione e dire ok ha ragione Maurizio qui non ci sono qui se suona il Charleston in quest'altro modo riesco a migliorare il flusso oppure mi sto dimenticando della casta perché sto pensando troppo al Charleston c'è la possibilità in realtà ti dico quando qualcuno mi chiama a far qualcosa se io devo registrare un disco no capiterà anche a te colato questa cosa se devi registrare io registro il primo tempo come viene viene anche con tutti gli errori entro nel reggio audio mi ascolto la base magari appunto dei momenti in cui sento che c'è stato un calo del flusso oppure un film particolare che magari per dare un colpo di rullante oppure ho smesso di fare il groove senza troppa attenzione sono entrato nel film quando alla fine del groove non avevo ancora capito che cavolo stavo facendo piccole cose no poi magari vado lì a risuonare un'altra volta la stessa take quel punto lì lo suono bene magari sbaglio dall'altra parte perché sono stato attento a quella cosa che ho ascoltato e magari mi è sfuggito un altro punto registrare mentre si suona quel libro lì è il 99 diciamo del lavoro perché se non si può registrare diventa un libro come un altro perché è veramente difficile poter capire dove ti trovi però se tu me lo consenti se vogliamo rimanere su questo libro poi fermami se farò troppo no no ti consento tutto vai vai e volevo dire io sto consigliando una cosa ultimamente ai ragazzi in realtà c'è un altro grande problema suonando con gli altri no che è legato al fatto che è un po più difficile in alcune situazioni restare concentrati mi spiego meglio se io sto studiando un esercizio anche da time and group da qualunque libro e sto a casa mia metto una determinata attenzione se sono su un palco e devo fare più o meno la stessa cosa l'attenzione è completamente un'altra un esempio ancora più banale tu per esempio dato c'hai 3000 gruppi no so che tu fai insomma sei uno di quelli che suonano un sacco di gente e questo è una grande nota a tuo favore perché l'unico modo per imparare a suonare e suonare no a studiare si studia a suonare si suona la partita noi la facciamo sul palco e dicevo immaginati che il tuo bassista col quale suoni tutte le sere quella sera c'è un problema e al suo posto vieni a suonare jimmy johnson oppure viene a suonare marcus miller oppure viene a suonare willy non lo so cercane tu paladino uno che ti piace io sono sicuro che tu quella sera starai molto più attento a suonare la batteria tu che dici mi sto sbagliando e no dico sì no ti dico questo perché perché ci sono dei momenti in cui la tua attenzione cambia in relazione a quello che c'è intorno per cui tu stai facendo un concerto di una certa importanza pur suonando una cosa che suonato mille volte la tua attenzione è maggiore e essendo maggiore ti richiede uno sforzo differente no che magari se è continuativo cioè se devi fare tutto un concerto con quella tensione tu arrivi alla fine che sei stremato non ce la fai più perché per evitare di non stare attento a quel colpo io adesso non voglio fare lo sborone ma vi ricordate quando è venuto james taylor a starremo con jimmy johnson che era nella mia cuffia io amo ovviamente lorenzo che è il bassista dei miei sogni però sapere che era jimmy johnson a mettere una nota lì senza il click mi metteva comunque nella condizione di stare attento anche ai respiri che faceva jimmy johnson pur di suonare con lui perché comunque c'è una situazione diciamo di attenzione maggiore ecco noi non possiamo creare l'attenzione a casa perché comunque entrano in gioco appunto fattori emozionali che non si possono ricreare però in qualche maniera dobbiamo giocare questo questo gioco perché se noi pensiamo esclusivamente a fare gli esercizi a leggere le figurazioni senza preoccuparci di stare realmente molto attenti questo stesso libro vale la metà per cui io adesso sto facendo studiare in questo modo questo libro ha visto che ci sono varie tracce no varie tracce l'a b c secondo secondo i workout io ho fatto legare tutte queste tracce in un file unico fai conto proprio è più semplice proprio uno ha un file l'unico che dura più o meno 20 minuti ora perché se tu unici tutte le tracce più o meno durano 20 minuti ora io chiedo ai ragazzi ovviamente non ai principianti perché questo non si può pretendere dai principianti ma da coloro i quali sono un po più avanti sì praticamente chiedo di suonare questo questo fai l'unico dall'inizio alla fine mettendo anche qualche piccolo film quella proprio per evitare di stare solo attenti al gru perché ovviamente un momento in cui possiamo sbagliare anche la scelta di un film no parlando di questo libro ragazzi time and groove lo faccio vedere perché così capiamo di cosa stiamo parlando sì diciamo che chiedo ai ragazzi di eseguire le varie linee dove ci sono gli esercizi e passando da una riga all'altra fare un piccolo film di due quarti anche di un quarto solo o anche se se non ti viene nessuna idea meglio niente che fare un film sbagliato no chiedo di inserire questo elemento di estemporaneità e quindi diciamo i ragazzi studiano facendo in questo modo la possibilità di di inventare qualche cosa preoccuparsi di staccare il gru in modo corretto e rientrare in modo corretto ovviamente nessuno è perfetto nessuno pretende che arriviamo all'ultima lettera e non sbagliamo io per primo ragazzi metto le mani avanti se dovessi dimostrare questa cosa non sarei in grado scusa volevo dirti che so bene che è un lavoro complicato però l'obiettivo non è quello di non sbagliare nessun colpo assolutamente no anzi vi dico una cosa se dovesse mai capitare di fare dall'inizio alla fine senza sbagliare un colpo io mi preoccupo penso che sia diventato una macchina e questo mi spaventa non è incoraggiante quello che invece si può fare in questa modalità di studio è lavorare sulla continuità del flusso cercando di lavorare in questo modo allora ci sono le prime tracce dove ci sono più riferimenti no ecco quelle tracce lì non è che siano più facili ci sono solo differenti difficoltà mi spiego meglio se io devo cercare di stare perfettamente insieme alcune volte è più complicato quando ci sono tanti riferimenti immaginati un sequencer sotto che ci ha 3000 robe tu devi comunque far caso a tutto no allora consiglio ragazzi se ascoltando la sequenza il colpo di riferimento diciamo della base vi accorgete che siete un po avanti un po indietro dovete immediatamente essere sensibili a capire quanto vi siete spostati in avanti un po indietro in modo che nell'appuntamento successivo sarete già pronti quando invece ci sono le basi ultime in realtà là ci sta il problema opposto nel senso che lì ci sono meno riferimenti magari ce n'è uno ogni tanto lì ti devi responsabilizzare e devi pensare al tuo flusso no senza preoccuparti di di trovarti in quegli appuntamenti la cosa da fare insomma però che io consiglio insomma di stare attenti e di evitare è che nel momento in cui suoni le ultime tracce dove ci sono pochi riferimenti c'è ovviamente il rischio di trovarti un po avanti o un po indietro nel momento in cui arriva questo famoso riferimento evitiamo di dare un inchiodato a dire cazzo sono andato avanti e frenare oppure accelerare qualora mi sono mi fosse accorto che ero avanti prendiamo atto che quel colpo lì non sta a posto e nello spazio che c'è fino al prossimo appuntamento cerco di di fare quella quella piccola auto correzione del gru in avanti o indietro che mi permetta di essere all'appuntamento successivo a tempo perché l'obiettivo come dicevo prima non è quello di essere perfetti perché innanzitutto non ce ne frega niente abbiamo già detto ci sono c'è già produsso che fa questo per noi e poi veramente è quasi mi viene male vedere un batterista che 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 non sbaglia quello io preferisco sbagliare un colpo veramente completamente fuori con con un flusso decisamente continuo piuttosto che sentire una drammachine perfetta che comunque c'è già la drammachine e non ce ne facciamo niente insomma per cui consiglio di studiare time and gloom in questa modalità a chi ha già lavorato sul libro tant'è vero che alcuni dei miei studenti che hanno finito tutti i workout sono ripartiti da capo da proprio uno facendo questo file unico lavorando su questo file che in effetti dura tantissimo però questa attenzione di cui parlavo cioè il fatto di è come se stessi davvero suonando con jimmy johnson ogni giorno perché stai molto siccome lo voglio provare subito anch'io questo workout in pratica non è fare play e mettere in fila i vari workout ma è proprio legarli insieme senza pausa quindi non ci sono i count iniziali in sostanza no non ci sono i count è come se facessi un medley di pezzi tutti attaccati e devi stare attento dal primo pezzo all'ultimo quindi non metti sotto pressione solo l'aspetto tecnico che magari nei primi workout è minimo ma sotto l'aspetto attenzionale sei veramente sotto pressione perché non c'è il momento in cui ti puoi distrarre per 20 minuti e dal mio punto di vista mi posso sbagliare perché io non sono nessuno per dettare legge nella didattica però è uno sono 20 minuti spesi molto bene dal mio punto di vista perché tu hai la possibilità di verificare davvero se stai in grado di stare attento o no perché è una sensazione è una condizione molto più vicina a quello che succede quando in realtà stai giornando perché noi sappiamo bene che il calciatore per esempio si prepara facendo la palestra facendo la corsa facendo i pesi facendo il fiato però la sua partita la gioca in campo no quindi è lì che lui fa le sue scelte cioè lui può aver studiato tutti i palleggi del mondo poi sul campo sceglie quando quando si deve muovere dove deve andare a chi deve passare la palla quella è la partita la nostra partita è il palcoscenico ora però se noi ce la giochiamo solo quando quando siamo sul palco e non ci prepariamo adeguatamente a casa rischiamo che giochiamo una partita che oggi non ha nessun valore in realtà invece facendo un certo tipo di studio a casa non è la stessa cosa ma ci abituiamo a determinate difficoltà che in effetti possiamo riscontrare davvero nel lavoro che sono appunto legate a fattori che magari uno non tiene in considerazione come appunto l'attenzione il flusso la costanza del suono semmai anche la la possibilità di inventare un fil senza perdere il flusso ecco queste cose attraverso questo modo di studiare time and glue secondo me possono essere ovviamente dedicate a chi sta già avanti questo è un gran consiglio eh ragazzi penso di esprimere il parere comune visto che qua tanti stanno scrivendo che lo usano questo è un gran workout da fare posso farti una domanda su time rudiments che arriva da facebook del gruppo facebook adesso non vedo chi l'ha fatta esattamente ma dice eh quanto potrebbe essere utile studiare l'interno al clock 1 applicato a stick control ammazza quindi fare quello lì con tutti gli sticking ma lo faccio fare sempre quindi non è che non mi diciamo allora sarà un tuo allievo quello che ha scritto questo è probabile no però comunque è ovvio che 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 utilissimo perché comunque è un conto è quello che dicevo prima è sempre la stessa cosa un conto è pensare il beat poi c'è lo step successivo che è quello di muoverci e allora se io mi muovo con un altro sticking comunque devo impartire ordini momenti differenti e rientra nel discorso delle famose sequenze del libro time and functional coordination per cui già se tu vedi per esempio mi sono già divertito nel mio video previsione del tempo a suonare l'interno al clock su tutto il set non utilizzando sempre uno sticking alternato proprio per il fatto che il concetto ovviamente porta a questo fatto di pensare correttamente quella scansione dei sedicesimi in levare e poi semmai poter stabilire di usare un altro sticking anche perché io ho notato mi dai la palla per dire un'altra cosa molti di noi devo dire non è il mio caso fortunatamente io sono altri di problemi questo non ce l'ho mai avuto però a noi molti di noi ci hanno insegnato a leggere mettendo sempre il secondo sedicesimo con la mano sinistra di modo che è il quarto sempre con la sinistra di modo che mi trovo sul battere per molti di noi c'è questa forma mentis no per cui cambiare sticking come appunto dice questo ragazzo per alcuni diventa quasi un problema perché siamo abituati a suonare tutti i secondi sedicesimi con la mano sinistra ora lavorare ovviamente in questa direzione va anche contro diciamo questo limite che molti hanno nella testa che viene proprio e alcuni anche proprio quando fanno le letture non hanno la se c'è scritto se c'è sto leggendo il coxon dove ci sono gli sticking se è un conto ma se leggo una lettura molti sbagliano il ritmo proprio perché non stanno quale sticking usare per questa tara mentale di usare sempre questo sedicesimo sul secondo sulla mano sinistra sul secondo sedicesimo per cui non può essere un vincolo quindi sono d'accordo d'accordissimo con lui è una cosa che faccio fare anche io a tutti i miei a dire allora chiedono adesso sono tutti agitati per questo file unico dove si trova non si trova te lo devi fare prende il cd apri logic tagli le tracce le metti insieme e te lo fai insomma quindi non è disponibile non è disponibile e mia intenzione però in una nuova edizione avendo sperimentato l'utilità di questa cosa è mia intenzione siccome time and glue verrà comunque ripubblicato di mettere questi file unici dando la possibilità di fare download così magari infatti proprio ti reggo il gioco stefano dice che vorrebbe scaricare le tracce perché al metodo ma non riescono a metterle cioè adesso ormai i computer non hanno anche più lettore cd è questo bisogna essere un amico con te ma io ti senti poco mi ha sentito solo sull'ultimo libro perché mi sono imposto però a parte gli scherzi io li ho fatti in digitale perché il cd ormai poi li perdi infatti io guarda ti faccio vedere ce l'ho scocciato dentro l'ultima pagina proprio quello scotch guarda quello da se non lo perdo fai un casino è giusto così perché poi ormai veramente nessun computer c'ha più il lettore cd ma proprio ma non si trova nemmeno i lettori cd esterni da poter collegare per cui insomma però adesso vediamo magari nella prossima edizione quando verrà ristampato una prossima ristampa volevo dire metteremo sia questo file unico di cui parlo perché abbiamo appunto visto anche insieme ai miei allievi che poi ti posso anche dire che vengono fuori un sacco di cose ma veramente tante perché vengono fuori delle problematiche che che sono legate alcune volte a delle problematiche tecniche altre volte all'attenzione c'è moltissimi mi è capitato di sentire alcune esecuzioni di questi file unici che all'inizio magari erano perfetti alla fine erano sbagliatissimi ma non perché non sapessero più suonare perché erano stanchi di stare attenti in altri in altri casi invece succede esattamente l'opposto alcuni avevano bisogno di entrare nel groove per cui i primi file non erano a posto pure stendo più semplici in teoria no le prime lettere poi una volta entrati nel come succede a tutti noi quando entri nel pezzo ci sei un po più in the pocket come dicono gli americani no per fare un po' l'americana ogni tanto però diciamo che alcuni poi ci hanno meno problemi alla fine anche se in realtà le tracce ti lasciano più spazi vuoti e tu hai più responsabilità insomma di non ti preoccupare io ti vedo e ti sento noi ti vediamo quindi se tu non vedi me non importa troveremo la soluzione ma ti chiedo una cosa ci sono tanti commenti subito i libri leggo questo di sergio ponti che è un ragazzo tra l'altro che io ho intervistato perché in quel momento stava collaborando con drameo adesso sergio è titolare papa drameo del reparto trascrizioni quindi complimenti sergio te li faccio pubblicamente mentre anche da parte mia ecco è diventato responsabile tutte di un'area ci siamo sentiti dice time rudiments sarebbe da tradurre in inglese credo avrebbe successo perché un altro metodo così dettagliato sull'argomento non c'è va bene abbiamo già accennato però ce l'avevo qua sotto il dito quindi te l'ho detta volevo farti questa domanda maurice poi partiamo anche con altre domande che stanno arrivando varie che sto cercando di selezionare perché siamo in un botto in questo momento io volevo chiederti da tu insegni da tantissimi anni no hai tanta esperienza che acquisito è cambiato nel tempo il tuo modo di insegnare cioè voglio dire hai hai cambiato idea su delle cose che magari vent'anni fa credevi che fossero importanti adesso magari non lo sono più ti chiedo questa cosa perché a volte mi chiedono anch'io a volte mi chiedo su me stesso se vale la pena studiare tanti anni con lo stesso insegnante no ma se l'insegnante diciamo progredisce e continua a evolvere nel suo modo di fare didattica evidentemente il beneficio anche per tutti gli allievi basta questa è la domanda è una bellissima domanda probabilmente non è che ti voglia fare un complimento ma perso che sia una delle più belle domande che possono fare musicista che ha una testa e che c'è un pensiero insomma anche una competenza ed è altrettanto difficile risponderti allora io intanto ti dico rispetto alla prima parte della domanda effettivamente il mio modo di studiare è cambiato drasticamente ma innanzitutto è cambiato perché il mio lavoro come ti ho già detto altre volte mi ha costretto a cambiare perché appunto io in quegli anni lì di Berkeley ero in fissa con tutti i modi di fare sincopation ero entrato nell'ottica che l'obiettivo era trovare un altro modo di fare sincopation capisci per me era quello l'obiettivo del giorno oggi quale altro modo mi invento ieri ho fatto questo oggi mi devo inventare un altro quindi era diventato diciamo ero dipendente sincopation dipendente quindi sbagliavo completamente il focus nel senso che non puoi pensare che la musica è quella lì la musica è tutta altra roba chiaramente non è che non serva io non voglio un fangare chi fa studiare sincopation ma voglio ribadire il concetto di prima io devo anche capire dove sto che cosa mi manca però per arrivare in quell'altro punto il mio navigatore come dicevo prima per scherzare mi chiede la posizione prima di fare un percorso e probabilmente al momento ad oggi col fatto che abbiamo tantissimo materiale è più difficile stabilire questo percorso e stabilire le priorità di questo percorso cioè adesso sono qui quindi per poter andare lì c'è da fare necessariamente questo quest'altra cosa ecco io in passato ho fatto tantissimi errori e se vi posso dire un errore che ho commesso è stato lo devo dire anche indirettamente mi faccio una sorta di complimento ma è stata diciamo una botta di culo se vogliamo il lo famoso studio dell'interna clock per me è stato un gioco una sorta di mi spiaceva come suonava mi venivano in mente le figurazioni che suonavano i timbaleri nella musica salsa dicevo bella questa figurazione qua io mi sono accorto dopo di quanto fosse realmente importante e quanto influenzasse tutta la musica ma non solo del batterista tutti i musicisti con i quali ha avuto a che fare io come forse ho già detto altre volte le più brutte figure dei musicisti li ho sentite fare sul beat perché ci sono state situazioni in cui magari tu puoi anche sbagliare un accordo e dici ok facciamo un'altra take perché lì invece di do ho fatto si bemolle facciamo un'altra take e quello le metti a posto ma se tu non sei comodo sul beat tu non sbagli quella nota tu sbagli tutto il pezzo non sai proprio accompagnarlo come alcune volte mi capita di sentire dei pianisti che appena hanno una difficoltà sul timing comincia a sentire che cambiano l'accordo di tutti così non mettono nessuna nota tra un accordo e l'altro perché hanno paura che quella nota li porti fuori dal beat ecco questa sensazione di disagio che probabilmente hanno molti musicisti alcuni magari anche non tanto anche professionisti diciamo diciamocelo chiaramente no no ovviamente non ad altissimo livello però diciamo questa cosa in realtà nasce molto spesso proprio dal dalla incapacità di pensare correttamente e mi piace ribadire il concetto che ho detto all'inizio pensare bene probabilmente ci porta a suonare bene pensare male sicuramente ci porta a suonare male cioè poi possiamo pensare bene e sbagliare in quel momento perché tecnicamente quella cosa non la sappiamo fare però se ci accorgiamo che pensiamo bene quella cosa stiamo sbagliando verrà bene ma se noi continuiamo a pensare male senza accorgercene non possiamo pensare che alla fine per magia diventiamo bravi ecco l'interna croc è proprio la base dal mio punto di vista di un problema molto più grande di quello che io pensavo qualche anno fa per cui insomma diciamo mentre inizialmente le mie lezioni partivano con wilcoxon per carità di dio john frat tutti i libri che conosciamo tutti quanti oggi le mie lezioni partono dall'interna croc perché dal mio modo di vedere oggi per la seconda domanda di prima è ancora più importante nel senso che io vedo intorno a batteristi con una tecnica molto più limitata della mia se vogliamo ma che sono cento volte duecento volte più bravi di me che c'erano duecento volte più idee ma ci sono anche altri che 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 però magari lavorando su tanta tecnica non hanno sviluppato altre caratteristiche allora dico la verità sta nel mezzo no bisogna avere una e l'altra però quello che realmente non ti può mancare e avere la capacità di pensare correttamente il bit e quello studio ti aiuta molto poi mi avevi chiesto un'altra cosa mi avevi detto farmi pensare bene la tua domanda se ho cambiato qualcosa si è cambiato qualcosa se hai mai se hai chiesto se sei voluto però è quello che hai detto volevo chiederti magari a scanso di equivoci che tu dici il mio punto di partenza per me è l'interna il clock chiaramente non si arriva un bambino di dieci anni che non ha mai suonato la batteria cioè specifichiamolo perché sennò magari qualcuno può pensare che ho cominciato a suonare oggi comprata in rudiments a fare l'interna cosa non lo so te lo chiedo è no guarda secondo me si può anche fare senza pretendere cioè se io sono l'interna clock anziché fare i sedicesimi faccio il levare per esempio anziché fare un tac faccio pa 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 probabilmente per un bambino di sei anni più semplice però anche quello è l'inizio di un processo dal mio punto di vista sì sì è chiaro però che un bambino di sei anni come dicevamo prima l'insegnante lo fa divertire sulle canzoni dal mio punto di vista fino a una certa età e quasi a parte veramente io non ho molta esperienza con i ragazzini però il mio cuore non mi direbbe mai di rompere le scatole a un bambino con gli esercizi io lo farei divertire a suonare sulle canzoni poi nel momento in cui mi rendo conto che questo ragazzino c'ha davvero voglia e allora si può partire con gli esercizi però diciamo non è proprio non è proprio la strada di un ragazzino che sta cominciando ma secondo me vale anche la pena secondo quelli veri metterli metterli davanti questa pulce nell'orecchio anziché fare tre ore di paradidolo anche un minuto solo di levare con gli ottavi può essere può essere pure utile dal mio punto di vista poi insomma ti ripeto come ho detto prima ogni insegnante c'è il suo metodo e se il suo allievo ottiene dei risultati ha ragione lui come chi vede tanti di ti fa cagare quel pezzo perché se ne fregola punto milioni di copie e quindi ha ragione la ragione lui adesso che ne metto una maurizio adesso ne metto una che qua ci vuole un'ora e mezza allora tiziano che un ragazzo dato che conosco chiede se è meglio per un ragazzo studia lui è tiziano te lo spiego perché ma ma chiesto un parere quindi ragazze 18 anni tra l'altro della tua zona che vuole capire che percorso deve fare per diventare un batterista di professione si sta chiedendo se fare cinque anni in conservatorio cinque anni con un buon didatta tu lavori anche nei conservatori ma insomma ha insegnato tanto anche da solo questa domanda tra l'altro capita spessissimo soprattutto con chi è nei conservatori consiglio sempre a tutti di andare a vedere l'intervista che ho fatto a lorenzo poli e che tu ovviamente conosci benissimo con cui lavorate tantissime volte che ha dato una risposta che secondo me spiega nel migliore dei modi quale deve deve essere l'approccio indipendentemente dal conservatore dell'insegnante comunque lo chiedo anche a te sì guarda secondo me adesso io non forse ho anche visto l'intervista di lorenzo ma sinceramente non mi ricordo la sua risposta però ti dico il mio punto di vista ora un batterista che oggi facciamo bene questa recitazione perché qualche anno fa era completamente un'altra cosa no quando ero ragazzino io e diciamo c'erano più opportunità io guarda adesso però voglio dirvi una cosa faccio una piccola premessa ognuno vive il suo tempo nel senso che quando ero ragazzino io ho avuto delle opportunità e sono stato molto fortunato molti me l'hanno anche detto ho avuto un sacco di storico in cui si lavorava tanto però devo dire senza volermi vantare che però le caratteristiche che io avevo allora in quel momento storico erano utili se no non mi avrebbero chiamato non era un bravo ragazzo che volevano far lavorare la cosa importante è avere le caratteristiche di questo del momento storico in cui tu parti e allora se tu parti oggi e sei un ragazzo di 18 anni che vuole entrare nel mondo del lavoro ti devi togli dalla testa che puoi suonare solo la batteria perché non esiste più questa figura il batterista è produttore arrangiatore fonico lavora su sulla rete come fa benissimo anche il corrado e tanti altri è una figura che c'ha 3000 cose ora se tu vuoi imparare a suonare la batteria hai bisogno di un bravo maestro non c'è bisogno di andare in conservatorio se tu hai bisogno di diciamo arricchirti di altre cose o ti trovi più di un maestro maestro col quale magari fai armonia un maestro col quale studi qualcosa sul suono sulla registrazione sui programmi oppure magari vai da corrato per capire come funziona bene la rete ecco o fai queste scelte oppure puoi fare la scelta del conservatorio però ti ripeto dipende dal fatto che oggi sono diversi tempi capito qualche anno infatti direi poi anche non so per sua ma poi anche non saper leggere poco prima io diciamo sono una girazione immediatamente dopo no ma ci sono stati alcuni batteristi che registravano migliaia di dischi senza leggere una nota senza clic senza niente andavano così io probabilmente ho avuto un po di fortuna se possiamo chiamarla così dovrei dire da solo di aver vissuto un momento in cui avevo acquisito delle capacità con la lettura e quella qualità mi ha aiutato a far parte del alcuni contesti ecco quindi per me quindi è importante il momento che tu stai vivendo il momento storico in cui ti trovi e devi necessariamente fare le tue scelte in base a quel momento ora se stiamo parlando di oggi questo è il mio pensiero puoi andare in conservatorio se ti vuoi preparare con un diciamo una preparazione più generalizzata dove studi più cose puoi benissimo scegliere un batterista col quale fare batteria ma devi anche trovarti un insegnante di di armonia imparare la suonare il pianoforte programmare perché se vuoi studiare solo la batteria hai davvero pochissime chance di fare questo lavoro ad un buon livello io vorrei però sottolineare una cosa che è molto importante che tu non hai menzionato la questione che 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 molti citano quando si parla di conservatori cioè tu non hai detto così hai un titolo cioè tu stai parlando di imparare a diventare un musicista no no guarda un titolo guarda adesso per dirti la verità io lo sai che è poco che farei quanto il conservatorio però ho avuto anche modo di sì diciamo che il titolo può essere utile per carità il titolo è comunque una laurea per cui ci sono alcuni che se ne prendono 3 4 medicina giurisprudenza è sempre qualcosa però io ho sempre valutato il peso del musicista anzi ti devo dire la verità proprio ieri stavo stavo vedendo alcune domande di alcuni candidati all'insegnamento che per la privacy ovviamente non nominerò per carità di dio però vedevo tantissimi batteristi di jazz che si candidavano per essere insegnanti un po questa cosa la trovavo sbagliatissima per due motivi prima per un motivo morale moralmente insomma molti batteristi che hanno per anni suonato jazz dovrebbero sentirsi non pronti per fare una cosa del genere secondo potrebbe essere anche il contrario no io sono batterista pop non mi metterei mai a insegnare un corso di jazz anche se non ci mette le mani a un pezzo string per cui già da quello si vede che alcune cose non sono proprio a posto anche se ti posso dire però che le cose stanno cambiando nel senso che il titolo di coloro i quali si laureranno adesso non è solo un titolo che ti serve a lavorare ma il tipo di persone che si sono preparate realmente ad un percorso nel senso che io ti dico quest'anno inizieranno i primi laureati di batteria no e da quello che ho capito fra l'altro prossimamente si potrà insegnare esclusivamente con la laurea se non si può insegnare più solo con i titoli artistici per cui questo diventerà diciamo una necessità per chi ha intenzione di insegnare e da una parte trovo anche giusto nel senso che uno che ha fatto una grandissima attività suonando solo la batteria senza avere competenze oggi come oggi come dicevo prima non è così pronto ad affrontare il lavoro mentre uno magari che ha fatto un percorso tipo il conservatorio se lo ha fatto con gli insegnanti giusti e nel posto giusto si prepara ad affrontare meglio il mondo del lavoro per cui diciamo la questione del titolo è molto relativa ci sono tantissimi laureati che magari stanno a casa come siccome ci sono tantissimi primari di ospedali che sono delle scarpe perché sono raccomandati purtroppo sappiamo un poco funziona in italia quindi diciamo che probabilmente cambieranno le cose essendoci le lauree ci saranno comunque delle persone che pur insegnando batteria pop hanno comunque avuto un percorso pop diciamo che prima di oggi prima d'oggi non c'era questo percorso che diciamo abbiamo tra virgolette molto modestamente e forse anche meritatamente da parte mia iniziato con lele no perché con lei l'abbiamo iniziato proprio il corso di batteria pop e basta non è già mente delle melotti specifichiamolo per chi non lo sapesse e quindi dicevo avendo cominciato questo percorso ci sono dei programmi ci sono delle cose che a nostro avviso potevano sembrare utili per cui in teoria probabilmente cambieranno le cose anche in conservatorio questo è il fatto che che il titolo è equivale a qualsiasi altro titolo se tu non sai anche delle altre qualità non c'è idee le famose soft skills di cui parlano gli americani e sei una persona con deficiente che suona solo la batteria è molto difficile che potrai avere a che fare con altre persone ma io scusami se ti ho fatto questa domanda non volevo neanche metterti in difficoltà autocar un argomento che è un po delicato ma io avevo fatto anche un video dicendo un po la mia su quello che è perché non è tanto pensato per i musicisti questo tuo ragionamento che poi è molto vicino a quello che ha detto anche lorenzo fondamentalmente no ma per i genitori soprattutto che crei che sono convinti che magari se mandano il figlio a fare conservatorio prenderà un titolo e automaticamente quindi lavorerà come può essere sai l'università dove ti laurea in ingegneria mandi via il curriculum e vai a lavorare la musica sappiamo che non è così quindi magari piuttosto che scegliere per forza io non ho nulla incontrare con i conservatori anzi mi pento di non averlo di non averlo fatto ma prima di andare a scegliere la prima struttura o per una ragione che non ha esattamente che vedere con gli obiettivi che un ragazzo deve avere cioè quello di suonare non quello di andare a fare l'insegnante necessariamente in una scuola bisogna ti faccio queste domande proprio per divulgare quella che è la realtà delle cose e chi è chi è dentro come sei tu come lorenzo come altri che siano i conservatori non c'è nessuno meglio di voi che può che può dire e tra l'altro io vedo che comunque conservatori stanno facendo tantissimi passi avanti ci sono sempre dei corsi nuovi delle cose molto innovative quindi diciamo che bisogna come sempre probabilmente documentarsi prendere feedback prendere informazioni chi c'è che insegna come insegna perché se tu fai quel percorso e magari hai sbagliato il posto poi può compromettere per così dire la tua professione sei d'accordo sono d'accordo sono di più ancora d'accordissimo e purtroppo quello che stava appena dicendo in merito alle domande che occhio insieme ad altri colleghi valutato però io il batterista ero io per cui dovevo valutare i batteristi ovviamente trovandomi molti musicisti fra l'altro che conosco che vengono da un percorso completamente jazzistico mi stupivo del fatto che 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 allegassero dei titoli che non avessero niente a che fare col pop che poi in realtà non sono nemmeno qualificabili perché se tu metti un titolo nella tua domanda che non è pertinente con la disciplina per la quale più presenti non vale nemmeno 0,50 non vale niente per cui diciamo se qualche conservatorio erroneamente magari comunque fa entrare alcune di queste persone per motivi di titoli acquisiti con altri corsi e allora a quel punto il problema non si risolverà mai in conservatorio diciamo che speriamo insomma a milano perlomeno ci sono dei musicisti di coscienza non dico bravi ma di coscienza nel senso che fanno tutti questo lavoro quelli che insegnano il pop per cui speriamo di fare di far laureare qualcuno che sono a meriti insomma tra l'altro metto questo commento che dice c'è un solo lele vai tranquillo io ho detto questo perché pensavo come lo dicevo per i neofiti o magari per chi sentita c'è ancora una domanda poi ti libero maurizio perché starei qua due ore ma non voglio approfittare del tuo tempo c'è una domanda che anche mi che mi tocca da vicino quindi sono anche disponibile pronto a critiche chiede volevo chiedere a maurizio questo ragazzo che non purtroppo non vediamo il nome da facebook dice volevo chiedere a maurizio cosa ne pensa della didattica online molti batteristi sono contrari e mi farebbe piacere sapere l'opinione di un grande didatta come lui io ti chiedo anche allargo la domanda in questo senso non capiamo se in questo messaggio intende didattica online dovuta ovviamente alla pandemia che ci costringe a fare la didattica su zoom chi meglio chi peggio dipende sempre come si è attrezzato ma magari anche la didattica che può essere drameo la scuola di dave weckel anch'io faccio di faccio offre dei prodotti di dati con line voglio sapere tu cosa ne pensi ricevere un consiglio una critica da te guarda io sono completamente d'accordo nel senso che che la didattica online che come ben sapete attraverso questo grossissimo problema della vendemia si è incrementata ha messo comunque accelerato un processo che comunque sarebbe avvenuto no è quasi sicuro che anche senza la pandemia tra quattro tra due tre anni si svolgerà molto molto online anche le anche l'università stesse anche conservatori stessi faranno molte lezioni online anche perché questo dà l'opportunità ad alcuni studenti che magari stanno in una città distante di avere il confronto con corrado che così molto professionalmente fa un lavoro diciamo veramente molto diciamo professionale a distanza per cui questo non deve partire necessariamente dalla sicilia e raggiungere corrado a piacenza ma se lo fa da casa per cui diciamo la differenza probabilmente la farà la qualità con la quale riusciremo a fare la lezione ma molti tipo tu appunto corrado immagino io purtroppo non sono uno di quelli lo devo ammettere perché la mia connessione a casa è a carbonate tutto vedi pure qua va bene immagini non vi vedo comunque diciamo sicuro io sono completamente d'accordo con la didattica anche perché probabilmente offre anche la possibilità di avere una una visione un po più ampia insomma della musica no se io sto con un insegnante che comunque mi accorgo che sta cercando soltanto di incrementare il suo conto corrente e non le mie qualità io devo dire senti però mio a me dispiace salutarti ma vado da questo perché mi sembra che sia una persona di coscienza che sta mi sta aiutando a capire dove sto ecco questo è la frase di oggi che mi piace io credo che l'insegnante debba fare principalmente quello perché poi come ho già detto insegnare a suonare la batteria è il padre eterno che ci insegna perché le scelte che facciamo il modo in cui tocchiamo la batteria ci vengono dal padre eterno non ce l'insegnante però una persona di coscienza che ci dice ok tu puoi fare questo e da questo puoi fare quest'altro e è davvero quello che può fare la differenza quindi trovare una persona che ti possa seguire in questo senso è la vera risorsa secondo me senti c'è diverse ma soprattutto alberto ha chiesto diverse volte se tu fai didattica privata online in questo momento da roma si guarda in realtà sto facendo pochissime cose perché avendo l'insegnamento sia a milano che a parma e facendo online per il problema del cobit ho veramente poco tempo per la didattica a distanza e poi sono molto onesto io ancora un sacco di problemi con la con la con la fibra che ancora non arriva da casa per cui la comunicazione è complicata e allora non mi sento ancora a fare un servizio utile siccome mi ritengo una persona da certi punti di vista onesta anche nella didattica non vorrei lo faccio qualche volta lo faccio alcuni ma veramente pochissimi ragazzi che magari già venivano prima che piuttosto che star fermi durante la pandemia hanno continuato a seguirmi però moltissime richieste che ho dei ragazzi che mi chiedono di fare le lezioni gli dico di no se non magari saltuariamente ma ma cerco di aspettare magari quando ci saranno momenti migliori ascolta ti lascio con una domanda l'ultima domanda questa cosa voglio leggere perché proprio capita ti chiede dev voglio chiedere al maestro sei mai suonato al grande tullio d'episcopo e cosa ne pensi di lui se ho mai suonato al grande turno con tullio d'episcopo sei mai suonato insieme a tullio e cosa ne pensi di lui allora guarda mi fai una domanda che mi riempie di gioia tanto ti dico che sapevo che ti riempievo di gioia infatti te l'ho fatto apposta per chiudere guarda tullio io sono veramente il suo grande fan ma perché che chiunque può avere la sua opinione però mi dovete dire se c'è del coraggio perché ci vuole anche coraggio a dirlo quanti altri batteristi nel suo momento storico suonavano come lui io non riesco a trovare se voi ritrovate magari vi dico sì è proprio per la ragione di cui parlavo prima quello che è importante è vivere il proprio momento e avere le caratteristiche per quel momento di tullio viveva in un momento in cui le sue caratteristiche valevano 100 poteva anche arrivare in quel momento poteva arrivare anche a rossi però suonava in un modo che non serviva che ma avrebbero chiamato tullio non so se forse un paradosso però non so se sono riuscito a spiegare questo concetto tullio è stato batterista unico nel suo modo di essere anche perché è stato un batterista di talento un virtuoso per l'epoca un innovatore perché c'era un sacco di idee c'era un bellissimo portamento di suo clic non clic lui suonava comunque bene e quindi è sempre nel mio cuore insomma è uno dei batteristi che ho che ho apprezzato di più proprio per il fatto che c'è dietro lo studio c'è dietro una preparazione veramente seria vuol dire lui ha studiato però il suo più grande pregio è che ha suonato tanto io lo dico sempre per suonare come tullio dovevi avere altre dieci vite e quindi già questo è una cosa in merito al fatto di essere suonato con lui sì perché tantissimi anni fa avevamo un gruppo insieme che si chiamava scirocco band di cui faceva parte io il povero rino zurzo giu amoruso e accompagnavamo james senese eugenio ben nato tullio di episcopo e tonio sposito quindi noi eravamo un trio di base che accompagnava questi artisti e abbiamo fatto diversi concerti anche all'estero siamo stati anche in francia e quindi sì sì ho avuto occasioni di suonare ovviamente solo in questa formazione però non non inturbo lui insomma non per il suo batterista però ripeto ho una grande stima un aspetto che ogni volta che sento qualcuno che mi dice una parola storta non riesco proprio a resistere o è così ognuno c'è il suo punto debole quel mio punto debole io voglio molto bene a tullio a prescindere da tutto quello che si può dire di lui io sono molto legato a lui come musicista e anche come uomo perché lui fra l'altro è uno di quelli antichi ha rispetto dei musicisti è sempre stato una persona che si è comportato sempre bene con tutti i musicisti non tanto ogni tempo guarda non sono ancora riuscito a intervistarlo spero di riuscirci presto perché me l'hanno chiesto in un milione ma io sono il primo che vorrebbe intervistarlo ogni tanto ci sentiamo per telefono e io sono lì in silenzio ascoltare perché proprio la tutti i consigli l'esperienza che ama proprio l'esperienza umana non solo musicale e infatti consiglio a tutti se non l'avete fatto leggetevi la sua autobiografia si chiama tempo è un libro che tutti devono leggere perché veramente è storia della musica italiana al di là di lui che racconta i suoi aneddoti i suoi episodi è proprio storia un racconto della musica italiana pazzesco quello veramente da leggere quindi la volevo fare è cascata proprio a pennello senti maurizio io adesso metterò i link ai libri di cui abbiamo parlato perché chiaramente ci siamo passati adesso qua ce li ho un po tutti ma poi li metto li metto nelle note così chi vuole approfondire va a vedere un po di cosa si tratta come funziona ribadisco ragazzi andate a seguire fatevi instagram se non ce l'avete seguite maurizio del lazaretti perché i suoi post sono sempre pieni di significato di valore quindi che cosa posso dire io non posso che ringraziarti maurizio perché sarei stato con ascoltarti credo tutti ancora ancora un po di tempo ti rinviterò più avanti a fare un'altra tornata perché usate ci sono state un po prolisse perché io non ho il dono della sintesi in molte volte mi dirungo per spiegare un concetto che magari mi è chiaro però ci mette un po e forse ho fatto aspettare un po troppo guarda assolutamente guarda c'è rapiti con i tuoi racconti quindi sono molto fortunati i tuoi allievi che peraltro hanno scritto in tantissimi io non li ho non li ho messi sotto nei titoli nei commenti perché se no tollevamo ulteriore spazio però ti salutano in tanti uno scrive che da barcellona l'altro da londra uno dal deserto ti sta ascoltando cioè ci siamo tutti tutti i batteristi sono qua e niente sono molto veramente felice di averti di averti rivisto maurizio quindi speriamo di vederci presto di persona e ci andiamo a mangiare una bistecca in compagnia guarda io non lo amo veramente ma anche di vedere tutti i ragazzi che sono qui ad ascoltarci vederci tramite il web spero di incontrarvi tutti in qualche palco da qualche altra parte insomma perché ovviamente non se ne vuoi più si vale qualcosa comunque meglio di niente però c'è proprio io ho bisogno proprio del contatto delle persone quindi sto soffrendo moltissimo tantissimo la l'impossibilità di abbracciare le persone di dare la mano di vedere uno sguardo quindi speriamo davvero di poterci incontrare prima possibile speriamo che finisca per essere tutto questo inferno vabbè maurizio io ti mando un grande abbraccio buona serata a tutti i ragazzi un saluto a tutti i ragazzi grazie per essere stati con noi ciao a presto a presto